ciao ragazzi e benvenuti al parchiatto del tagliagole oggi ragazzi edizione straordinaria perché sinceramente mi sono rotto le palle ragazzi sigletta e poi andiamo a vedere cosa è successo via eccoci qui ragazzi come vi dicevo mi sono rotto le palle perché ragazzi comprare i nostri bei coltelli con i nostri dollaroni sudati con il sudore della fronte vederseli arrivare a casa provarli e accorgersi che il filo di fabbrica fa veramente cagare ragazzi è una cosa che fa veramente girare le palle veramente girare le palle ovviamente in tanti mi possono dire ogni tanto arrivano quelli che mi dicono vabbè ma il coltello una volta che l'hai preso te lo puoi anche riaffilare assolutamente infatti abbiamo qua dc4 cc4 e lo stroppo adesso lo riaffilo però io so affilare ragazzi lo so affilare me la cavo lo posso riaffilare lo sistemo ma se arriva uno che non sa affilare ragazzi voi mi dite te lo puoi anche riaffilare allora io vi posso dire quando andate a comprare il vostro bel macchinone dal concessionario compratelo con quattro ruote bucate tanto uscite le potete anche riparare non sgonfie non sgonfie perché se sono sgonfie a gonfiarle sono capaci tutti bucate dovete ripararle ok quindi dovete essere capaci di ripararle compratevi il vostro bel suv nuovo con quattro ruote bucate andate a ripararle cioè è assurdo ragazzi il paragone è proprio questo perché se uno non sa riparare la gomma deve portarlo dal gommista se uno non sa affilare deve portarlo dall'arrotino poi arrotini bravi in zona ce ne sono perché ho visto dei lavori da arrotini ragazzi da impallidire da impallidire ce ne sono non ce ne sono ok devo spedirlo spedizione arrotino ragazzi sto comprando un coltello nuovo un coltello nuovo ragazzi davvero pacco arrivato ieri da knife and tools ragazzi originale perché comunque non se ne fa non si discute sull'originalità dei prodotti di knife and tools andiamo a vedere che cos'è stranamente un benchmark che due palle ragazzi è il terzo di fila che arriva col filo di fabbrica pietoso pietoso adesso ve lo faccio vedere il primo era un griptilian ragazzi lo riaffilato mi ha fatto incazzare talmente tanto che non ci ho neanche fatto la prova l'ho venduto il secondo un presidio consigliato presidio 2 consigliato dall'amico ramor ragazzi che ce l'ha anche lui ragazzi ho dovuto conversare il filo perché non tagliava una mazza non tagliava una mazza adesso ovviamente è un bel rasoio ragazzi adesso taglia adesso un coltello che taglia cioè non stiamo a scherzare dai cioè arrivano i coltelli che adesso vi faccio vedere come arrivano ultimamente i coltelli di benchmade l'affilatura di questo presidio e del griptilian erano esattamente come questo che vi faccio vedere adesso poi decidiamo insieme se non è il caso di incazzarsi davvero perché sarebbe da rimandare indietro però knife and tools allora che lo rimando indietro me lo tengo e lo riaffilo pensiamo sempre a chi non sa affilare comunque ma se tu hai i coltelli di saper affilare ma chi l'ha detto io devo comprare un coltello deve tagliare non è che posso comprare il coltello e affilarmelo da solo se non mi togli 50 euro me lo affilo io ragazzi questo coltello costa 150 euro 150 euro non costa 12 euro anche per quelli della bancarella di zio topogigio funzionano meglio ragazzi sacchettino originale prodotto ovviamente benchmade proper quello con la lama ship food ragazzi ragazzi bello bello ero indeciso se prendere questo e libar dalla fox e poi ho detto ma m3 90 io preferisco essere 30 v tentiamo ancora con benchmade tentiamo tentiamo va bene ragazzi ragazzi io non ho parole non ho parole cioè ragazzi andiamo anche piano c'è ragazzi ma ci rendiamo conto ci rendiamo conto cos'è arrivato perché questo è un coltello che taglia questo è un coltello che taglia ragazzi questo è tagliare basta con sti coltelli che non tagliano basta davvero ragazzi basta perché non posso prendere un coltello e ogni volta andare a rifargli il filo non posso poi ovviamente ragazzi io me la cavicchio da affilare però se arriva una persona che ovviamente non sa affilare cosa fa si tiene il coltello così si tiene il coltello così ragazzi ragazzi gli do affilata e andiamo alle conclusioni finali eccoci qui ragazzi coltello riaffilato ho usato solamente la cc4 e lo strop la dc4 la userò magari più avanti perché il risultato è buono ragazzi però non è un rasoietto cioè cavolo ragazzi due millimetri di lama praticamente questo deve tagliare a passarci vicino invece si sente un pochino di attrito della lama lo so che io sono un po' maniacale ok sono un po' maniacale taglia bene si taglia benissimo però adesso lo userò per un po' così non avevo voglia di mettermi dietro subito con la diamantata quando arriverò ad affilarlo un paio di volte ragazzi poi gli darò una passata sulla diamantata e lo tireremo veramente un rasoio brutto due millimetri di lama come fai a non farli tagliare come fai a non fare tagliare due millimetri di lama ragazzi dai è assurdo ragazzi coltellino bello faremo una recensione ma capite che un po' le palle per terra benchmade molto male molto male 3 su 3 veramente male arriva anche elwood magari arriva qua che vi saluta no fa la cacca ragazzi dalle affilature di merda chiamiamole tranquillamente di merda da elwood che fa la cacca dal parchetto del tagliagole tutto buona giornata e ciao